Musica Io ormai sono rassegnato a lasciarci le ossa qui, se non mi ammazzeranno morirò di vecchiazza. Chi sono i veri protagonisti del rally del cinema? Loro, i fans, gli appassionati, incuranti delle intemperie, infabili di fronte all'imperizia automobilistica dei nostri vivi, si accalcano sulle automobili. Ecco Rick Battaglia, noto per aver fatto un film con la Loren. E' un altro famoso astro del firmamento cinematografico che si aggiunge ai tanti altri come Rick Battaglia ed Elsa Martinelli che si trovano nella capitale jugoslava impegnati in film di notevole mole. Ma quello è Annibale? Si, vorrei esserci io con quella bella ragazza romana. Come? Lascialo, questo prigioniero è sotto la protezione di Annibale. I don't have marble palaces that you were born to live in, nor richly woven dresses for you to wear. Able to offer us such a peaceful life. All of this is our kingdom which will last forever, and you are the loveliest of queens. All of this is our kingdom, Ariadna. No ti incumbe. Demetrio! Remember, before the new moon. Demetrio! I said spit it out! That staff belongs in my hand. It's my place to lead! Infals weiß keiner, dass du is Warzberger. Wir halten uns ruhig, bis die Leute den Jungen vergessen haben. The girl cannot make me die, and you will be killed. You will also die. Let me go ahead, if I can check it out, if I can check it out, if I can check it out, then you will be able to return to the sea. At last. Grazie a tutti! Venite qui, ragazzi! Non lo conoscete, eh? Ma quest'uomo è uno dei più celebri disertori e una delle più sporche carogne di tutti gli Stati Uniti d'America! Non avresti dovuto farlo, Stark. Questo pugno mi farà ancora male quando ti vedrò contro un muro imbottito di pallottole. Grazie a tutti! 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 E' tanto tempo che non ci riunivamo tutti insieme. Ma se ho riunito la famiglia qui a casa mia. E' perché questa guerra aveva a finire. Li vuoi molto bene a quel bambino. Si, è come se fosse mio figlio. Tu sei un bravo guaglione, io ti voglio aiutare. Ho appena fatto riparare una vecchia paranza da pesca giù all'isola di Vivare. Non è che mi state prendendo un giro? No, Don Vito non scherza mai e tu questo dovresti saperlo. Minacciano l'ordine costituito. Torino sta diventando troppo grande. Le fabbriche, gli immigrati, l'espansione edilizia. Problemi nuovi e gravi, caro Don Bosco. Forse è in pericolo lo stesso futuro dello Stato, di tutto il paese. E' come se non bastasse... Lei si mette a raccogliere tutti quei ragazzi. No, lei sta perdendo tempo. E' ovvio che non mi sono spiegato chiaramente. E' mio preciso dovere convincere i suoi benefattori a non aiutarla più, Don Bosco. Peccato che non profumi. Certo che lo conosco. Ecco, devi convincerlo a darmi una mano. Lo farà senz'altro e senza fiatare anche. Mi deve un sacco di soldi. Hank, tu e Norton proseguite per Cannon con le altre pellicce. Ehi, aspetta un po'. Voglio divertirmi col vecchietto, in specie con la ragazza. Pezzo di idiota! Diverti! Come hai fatto con quell'altro vecchio? Vuoi lasciarti dietro una scia di cadaveri? Sarai la nostra fine se continui così. Nessuno mi ha visto. E i morti non parlano certo. Quindi... Tu farai quello che dico io. Portarai le pellicce a Cano. La atmosfera era incredibile. Es herrschte Aufbruchstube. Wir waren mitten in einem Bühne. Geld aufzutreiben, war kein Problem. Alle hatten Geld. Die Großindustriellen, die aus ihrem Milieu ausbrechen und junge, schöne Frauen zum Vorzeigen um sich haben wollten, finanzierten die Filme. In Vista finanzierten die Filme. Deshalb wurden so viele Filme gedreht. Und so viel Müll. Alle improvisierten. Regisseure, Kameraleute, auch die Schauspieler. E anche die Actoren.